Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per traffico tra Aglio e Calenzano nella carreggiata verso Firenze. In scipili per lavori, code tra Empoli e Ginestra verso Firenze, in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti per corsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Per gli stessi lavori, inoltre, l'uscita di Montelupo è chiusa per chi proviene da Firenze fino al 16 settembre. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che entreranno in funzione venerdì 9 agosto le nuove telecamere su alcune corsie preferenziali cittadini. I dispositivi sostituiscono i vecchi apparecchi in via dell'Olivuzzo, via il Massaio, via Senese e via Bolognese-Vecchia. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!